Musica Benvenuti a Salute Sanità da Eva Perasso. Oggi parliamo di capelli, quando mancano, quando cadono, quando ci sono delle infiammazioni. Ne parliamo con la dottoressa Daniela Stradini. Benvenuta dottoressa. Grazie per l'invito. Grazie a lei per aver raccolto il nostro invito. La dottoressa Stradini è responsabile della dermatologia di Aslo e Quattro Chiavarese, poi riceve anche privatamente in svariati studi tra Genova e provincia, dermatologo e chirurgo plastico. Dottoressa, i capelli sono un vezzo, un simbolo di bellezza, diciamo così, sia per le donne sia anche per gli uomini. Spesso però i capelli, chiedo scusa, soffrono svariati problemi. E allora proviamo a raccontare che cosa accade, quali sono i problemi più comuni per cui lei viene poi contattata dai pazienti. Allora, devo dire che i pazienti sicuramente hanno molta attenzione nei confronti dei loro capelli e quindi ci pongono varie domande, a cominciare dalla caduta dei capelli, sia nell'uomo che nella donna, dalle patologie infiammatorie, lichen, lupus, eccetera, eccetera. Per la loro pecia areata, sia nei giovani, nei bambini, negli adulti, negli anziani, in tutte le fasce d'età i capelli sono un problema. Però adesso rispetto, diciamo, al passato, le armi che il dermatologo ha al suo arco, le sue frecce, sono molto di più rispetto al passato. Quindi abbiamo molte più soluzioni rispetto a prima. Credo che il primo passo sia quello di capire qual è la causa di un'infiammazione piuttosto che di una perdita. E qui entra in gioco la visita dal dermatologo. Ecco, sì, il dermatologo sicuramente è lo specialista di riferimento a cui rivolgersi, soprattutto se si è documentato, ha seguito i congressi, come nel mio caso, internazionali e nazionali per i capelli, per le problematiche dei capelli, a cui rivolgere qualsiasi tipo di problema, qualsiasi problematica uno abbia. Nel senso, sia che sia un problema di caduta, come nel caso della donna, quando allatta piuttosto che in menopausa, sia nel caso dell'uomo in età giovanile, quando comincia a perdere i primi capelli, quindi abbia una lopecia nonogenetica, sia nel caso di uno stress, in cui abbiamo un telogenfluvio, una perdita massiva, oppure anche semplicemente nell'orpecia areata, quando abbiamo invece delle chiazze rotonde in cui non ci sono più i capelli. Comunque, lo specialista che si occupa di queste cose sicuramente può dare delle risposte efficaci per tutti questi tipi di problemi. Ecco, dottoressa Stradini, la brutta notizia, e lei ha citato, diciamo, i mali più comuni che riguardano i capelli e la perdita dei capelli, la brutta notizia, dicevo, è che tantissime persone, ahimè, ne soffrono, incidenza altissima di perdita dei capelli nella nostra popolazione, sia femminile che maschile. La bella notizia, me lo raccontava lei prima dell'intervista, è che la tecnologia, la scienza, ha fatto passi da gigante, per fortuna, quindi oggi c'è una cura per ogni problema, così come dice il titolo della nostra trasmissione. Allora, le chiedo di raccontarci quali sono le cure più comuni, per esempio, per la cura dell'alopecia. Allora, se parliamo dell'alopecia androgenetica, cioè che l'alopecia che colmice, copisce il maschio con la perdita dei capelli sul davanti, nella zona che poi si estende anche alla zona posteriore, ho detto anche l'alopecia androgenetica, ci sono tutta una serie di trattamenti che incominciano dai trattamenti che per bocca, con delle pillole, delle sostanze, sino ad arrivare alle PRP. Le PRP si intende concentrato di piastrine, concentrato di plasma, che viene prelevato dal soggetto donatore e viene reinettato direttamente nel cuoio capelluto e dando una sferzata di energia tramite questi fattori di crescita piastrinici e quindi la ricrescita addirittura dei capelli. Sembra strano, ma sì, si può avere addirittura la ricrescita o comunque il mantenimento di quelli che ci sono. Ecco, PRP, plasma ricco di piastrine, ha un po' suppiantato altre tecniche e terapie che si usavano in passato? Beh, sì, sicuramente. Prima si potevano fare cose più ovvie, tipo l'infiltrazione di cortisone, altre cose, nel senso che comunque ormai sono superate, ecco, per quanto riguarda l'alopecia antrogenetica. Se poi invece parliamo di telogene fluvio, che è più tipico della donna in questo caso. Cosa si tratta? Ecco, il telogene fluvio è la perdita massiva di capelli, cioè uno si tira i capelli e si li trova in mano, o comunque li trova nella vasca da bagno, può arrivare a perdere 100 capelli. Lì ci possono essere varie cause, possono essere cause appunto diciamo più interne, quindi carenza di determinati nutrienti, a cominciare dal ferro piuttosto che da altre cose, o comunque anche lo stesso stress. In questi casi che così fa? In questi casi bisogna rivolgersi più alla medicina tradizionale, quindi cominciare dall'uso degli steroidi sia atopici che per bocca, quindi assunzione al minoxidil o comunque anche altri vari, sono entrati in maniera diciamo prepotente, i peptidi biomimetici che hanno scoperto i coreani, che si possono trovare sia in lozioni che anche iniettabili e anche quelli hanno una loro diciamo funzione. Per parlare di novità. Ecco, abbiamo qualche consiglio pratico, nel senso che spesso ci sono anche le perdite di capelli che possono anche non portarsi dietro delle patologie vere e proprie dovute a un ricambio di stagione, piuttosto che, citati prima lei, i momenti particolari della vita di una donna, l'allattamento e così via. E spesso anche cercando un po' in rete delle informazioni si leggono magari dei consigli rispetto a determinati integratori, dei cibi da evitare e così via. C'è qualcosa che ci può dire che sia vero e scientificamente provato, da dire ai nostri spettatori? Allora, sicuramente gli integratori che possono contenere della biotina, della cistina o comunque tutta una serie di bull, di aminoacidi, di vitamine, eccetera, eccetera, possono aiutare il capello, perché il capello ha bisogno di ricevere dal proprio sangue un nutrimento e quindi formare poi i mattoncini che sono quelli della sua struttura. Quindi la persona che vuole avere cura dei suoi capelli, soprattutto in determinati periodi della vita o in cambi stagionali, se introduce questi integratori che devono essere dati prevalentemente dallo specialista, piuttosto che rivolgendosi al farmacista o comunque a una persona della porta accanto, possono veramente cambiare la la testura del nostro capello, cioè vuol dire il fusto del nostro capello, in maniera, ovviamente sono trattamenti che si devono fare per un periodo prolungato. Certo. La caduta dei capelli si può prevenire? Sì? No? La caduta dei capelli, che tipo? Cioè, prevenire? È difficile prevenire, è più facile curarla che prevenirla. Questo sì. C'è qualche consiglio che possiamo dare, magari già da giovani, si può agire in qualche modo per aiutare, insomma? Allora, sicuramente la problematica del capello bianco è una problematica che sta colpendo le nuove generazioni, cioè se prima le nostre mamme cominciavano ad avere i capelli bianchi a 50 anni e adesso cominciavano ad avere le ragazze che hanno i capelli bianchi a 30. E se c'è un uso di un integratore adeguato, già in cominciare da queste età molto precoci, quindi 20-25 anni, per dei periodi prolungati, si può rallentare la formazione dei capelli bianchi. Questo secondo me è una cosa che io ho sperimentato nella mia pratica clinica e che riconosco come una novità assoluta da, diciamo, da fortemente amplificare. Mi sembra una notizia meravigliosa, insomma, soprattutto per i più giovani che vedono i primi capelli bianchi e iniziano, oddio, a mettersi le mani nei capelli e a squalentarsi. Sì, sì, sicuramente se iniziano con un'integrazione... Quindi dal dermatologo, comunque, sempre, dal specialista, questo lo diciamo sempre, in età precoce, riescono a mantenere questa integrazione per degli anni e rallenteranno il loro incontrimento, il loro compasso dei capelli bianchi. Bene, allora non possiamo che consigliare ai nostri spettatori, in questo caso, di recarsi da un dermatologo per poter avere i consigli specifici rispetto a tutti i problemi che riguardano i capelli. Insomma, si può sperare, ci sono tante tecniche, tante tecnologie nuove, tante nuove terapie che permettono di rimpolpare, diciamo così, il nostro cuoio capelluto e riavere una bella chioma. Ringrazio molto la dottoressa Stradini per essere stata con noi, l'invito a tornare a trovarci per riparlare di altri problemi. Saluti ai nostri spettatori e do appuntamento alla prossima puntata. Buonasera. Grazie a tutti.